La prosa, che è poesia, è il segreto di Hemingway. C'è chi ha scambiato la sua semplicità, la sua... Vuole che le porti una salsa speciale per il suo hamburger? No, no, a posto così. Grazie, Chantal, grazie. Ma insomma, dovrà esserci una spiegazione. Sì, che sono scappati. Ma da chi? Ma dove sono i bambini? A casa, amore. Abbiamo lasciato i bambini a casa da soli? Ma non ci posso credere, Dio, cosa abbiamo fatto? John, sono adulti ormai. Su, serio? Mio marito soffre di disturbi della memoria. Che ci facciamo qui a terra? Non te lo ricordi, io sono caduta e tu sei caduto addosso a me. Oh, cazzo. Stiamo solo facendo un viaggetto, Jane, non staremo via molto. Un viaggetto, mamma? Dove? Metti giù il fucile, o gli faccio molto male. Se pensate di farci paura, vi sbagliate, perché non abbiamo niente da perdere. John! John! Ella, che diavolo ci fai sulla motocicletta? È pericoloso, santo cielo! Lo sai il mio nome? Qual è? Ella... Lilian. Lilian, è la nostra vicina di casa, amore. Io sono tua moglie. Ella, che succede? Sono Ella adesso. Sono di nuovo Ella. Mi sembra di prendere un padre, amore. Dà un bacio ai ragazzi da parte nostra. Tornerete a casa però, vero? Yeah, I saw... Non lasciarmi mai più, capito? Oh, te lo prometto. Il paradiso. Forse. Credi che si possa avere un hamburger qua su?